Ciao ragazzi, qui il vostro Gioami 94 e benvenuti in questo nuovo video nella terza parte di Turok, qui con me ci sta anche il grande Dico 97 che ormai è muto, hanno fatto un'operazione alla bocca quindi non parlerà mai più Diego vuoi dire qualcosa? Ciao ragazzi, eccolo qua, ecco qua ragazzi, siamo arrivati Stai giù Stai giù Stai giù, per paura che non ci vedano, va bene, io sto con... oh Cristo, va bene mi sa che qua faremo un disastro Quel ponte è l'unica via per attraversare la pallina, vuol dire che andremo verso quella Stai giù, per te Eramoci una mossa, sappiamo ricompensare il dovere, gli uomini di Chene Trovo una via per la struttura, va benissimo, la troverò, forse l'ultima cosa che fassi Ok, ho sprecato una granata ragazzi, sono mitico Sono mitico Aiuto! Aiuto! Ragazzi sono morto! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Allora, andiamo, lo speriamo dopo a lui, lo speriamo, lo faccia ruotano dopo. Sono morti in due, sì? Senti alla testa! Senti alla testa! Senti alla testa! Allora, andiamo! Senti alla testa! Senti alla testa! Ragazzi, Diego è grandioso! Un po' di merda! Un diotolo di merda! Sicuramente era uno che ti ha sparato l'assianto! No, è uno che ti ha sparato l'assianto! Va bene ragazzi, ritorno io a giocare! Il grande già mi non andava! E' l'unico che sa fare questo gioco! Dico 97, adesso sta giocando a Metin, quindi... E' più esperto! Aiuto! Dobbiamo liberare la zona! Guardate quello come... E' stato mangiato! E' stato mangiato! E' stato mangiato! E' morto pure il dinosauro! State giù! State giù! Trovate un riparo! Giù! Ragazzi, niente! Non muore! Tiviamone la selvaggine, ragazzi! Andiamo giù, giù, sempre più, giù, giù... No, 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 no... Mori! Si è verificato un errore da commissione della Peskish Network. Ti prego di aver raccontato io, grazie. Ecco ragazzi, adesso salto col coltello! Attacco col coltello! Cosa stanno sparando? Attento! Attento adesso! Un imparato! Ragazzi credo che abbiamo risolto il caso, oh grande tu Roc tu si che sei un maschione, altro che Diego 97, Diego ragazzi il prossimo video sarà su Metin che vi faremo vedere, Diego che raccoglie minerali, è grandioso ragazzi, non ci posso credere, no non ci credo, non ci credo, l'arco signori l'arco, ma no! L'arco è perfetto, rappresenta il passaggio a livello di addestramento successivo, è uno scherzo, non direi proprio, è un peccato che mi vergogna delle tue origini, perché la storia insegna che molti dei tuoi temibili guerrieri erano indiani cagli, come i tuoi alterati, e l'arco era la loro arma, ok? Si si, questo è in modo che non possa leggerlo, che arma potente, forse va bene contro il generale Kasper, che mi augura! Si chiudi un spado desiderio, che mi fa bene contro il plan che non ti penso con noi, che com'è io, che mi dice un spado... bendito! Amo questo arco, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, rego scusi comunque 9 che va una grigione.. Sembra la grigione che è quella che è una grigione che ci trovo さcrata, Corri, io corro con l'arco, ragazzi, sono un coglione, non mi interessa, trovo una via della struttura, va benissimo. Ragazzi, fatto uno, madonna quanto è bello questo arco, porco Giuda, dal riparo! No! No! Sono morto! Giuda con l'arco adesso, adesso va Diego con l'arco, mi è premuto, perché mi è premuto il colpo è più forte, e poi mi devo dare i nemici a noi. Ragazzi, eccolo, Diego con l'arco! Stai a abbassarti i fiammi! Grande Diego! Grande Marco con l'arco! Stai a riparo! Stai a riparo! Stai a riparo! Come nemico qua, i soldati non mi spaventano tanto, a me mi spaventa tanto il mio cagnolone, il mio cagnolino, come avete visto nel video precedente che abbiamo incontrato, il mio cagnolino bello bello. Ragazzi, praticamente il mio cagnolino cagnolino è un t-rex alto 40 metri, che dovremmo abbattere in un modo o nell'altro. Sì, sì. Diego per che fare al tuo amico? Non la fuori, la fuori! Bella die! Nell'intestino! Sei un killer nato, Diego 97 è un killer nato! E non parlo però! Diego sono muto! Diego è muto! prendi la freccia amico, prendi la freccia, girati, 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 nooo, non lo sapevo e non lo avevo riferito giù, nooo ragazzi si è drogato, si è fatto un bicchierino di vodka, due, due il bicchierino... questo arco è perfumato, rappresenta il passaggio a livello di addestramento dai ragazzi, madonna, dai, è buono vero? è pesante ragazzi, è pesante! mi pare che viene pure a me che sto cervellendo le chiappe io sto qui, a chi c'è da lì? è capace come la famiglia piccola ragazzi in faccia ma sono un mostro mi faccio paura da solo ragazzi mi faccio paura da solo alzati duro maledizione